Un esempio da seguire di modernità, di successo, di qualità, di organizzazione e del lavoro è la Farmalabor, officina farmaceutica di Canosa di Puglia, fondata nel 2001 e diventata in soli dieci anni leader in Italia e in Europa nel settore della produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico ed alimentare. Uno stabilimento di 11.000 metri quadrati e 25 depositi, 75 dipendenti, molti dei quali laureati, un fatturato di oltre 6 milioni e mezzo di euro nel 2011, 8.000 farmacie associate, 700 consegne al giorno. Sono i numeri del successo di Farmalabor, scelta da Confindustria Bari e Bat come sesta tappa del suo viaggio nell'impresa, alla scoperta delle aziende di eccellenza del territorio. Farmalabor è la punta di diamante di un distretto del farmaco che in Puglia sta crescendo, tanto da indurre Confindustria a dedicargli una sezione ad hoc. C'è tutto un settore in fermento che va in questa direzione. Ora, dal momento che facciamo anche cose buone per la sanità, perché fermarsi soltanto alle cose che ci hanno dato ombra? Alla visita a Farmalabor hanno partecipato come sempre politici, accademici e imprenditori, oltre ad un gruppo di studenti del liceo scientifico di Canosa. Un posto incredibile, modello di qualità l'ha definito il governatore della Puglia, Nichi Vendola. La Puglia ha sacche di arretratezza, criticità antiche e moderne, ma anche dei talenti imprenditoriali che hanno un rilevo sul campo nazionale. Farmalabor, nella città di Canosa di Puglia, è un'esperienza davvero d'avanguardia. Un riconoscimento importante per l'impegno di Sergio Fontana, amministratore di Farmalabor, che facendo tesoro dell'esperienza di farmacista di quinta generazione, ha costruito un'impresa incentrata su un gruppo di lavoro giovane e motivato. Dopo severi controlli, Farmalabor è stata autorizzata, unica tra le officine farmaceutiche italiane che ripartiscono principi attivi, dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ad effettuare controlli di qualità e a rilasciare i relativi lotti. C'è un'attività di ricerca e innovazione che ci porta ad avere dei prodotti sul mercato che sono innovativi e ci permette di competere ad armi pari in situazioni molto competitive e molto difficili come sono quelle dei mercati attuali.